Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sciroppo di arance. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono succo di arance, zucchero semolato, scorza di arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia. Lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di arancia ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciare raffreddare completamente e trasferire in una bottiglia di vetro. Sciroppo di arance. Ideale per preparare ghiaccioli, gelati o aromatizzare bevande come tè, acqua tonica o bibite cassate. Diluito con acqua può essere utilizzato come bibita dall'arancia. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.